Nuovo ospedale, il commissario Giustizio Scaduto non induggia e partono gli espropri. A pochi giorni dalla scadenza dell'incarico, il 7 novembre, il commissario Scaduto ha compiuto un passaggio importante finalizzato dall'acquisizione della superficie su cui è prevista la costruzione di un edificio che contiene oltre 65.000 m2 fra reparti, saloperatori e laboratori, 425 posti letto e 10 ettari di verde urbano. Il nuovo ospedale di secondo livello, la cui area è stata individuata e incontrata a 3.000 lungo la strada statale 124 a poche centinaia di metri dello svincolo della Siracusa Catania, ha ottenuto nell'aprile dello scorso anno l'autorizzazione alla costruzione da parte dell'assessorato regionale al territorio e ambiente. Dal decreto si evince la posizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità sulle aree individuate nel piano particellare. Pochi giorni fa ai proprietari dei lotti di terreno e degli immobili che sorgono sull'area in cui dovrà essere costruita l'importante infrastruttura è stata recapitata una nota che oltre a fare il punto della situazione è detta ai tempi per i prossimi imminenti passaggi tecnici e burocratici. A farla notificare è stato il commissario straordinario per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero seracusano il profetto Giussi Scaduto. Si tratta dell'avviso pubblico di avvio del procedimento di conferenza dei servizi sul progetto definitivo del nuovo ospedale oltre all'avvio del procedimento espropriativo dei lotti e delle unità immobiliari in questione. Intanto c'è febbrile attesa alla regione siciliana affinché indichi l'azione politica su come reperire i fondi per completare il finanziamento. Va avanti in maniera spedita l'iter burocratico relativa al progetto del nuovo ospedale della città. Lo scorso 16 marzo è stato dato avvio in urgenza allo sviluppo del progetto definitivo che il 28 giugno il raggruppamento temporaneo di imprese affidatari della progettazione ha presentato al commissario straordinario nel rispetto del cronoprogramma. Ulteriore passaggio tecnico e burocratico è stato consumato il 21 settembre quando il progetto definitivo è stato verificato con esito positivo dall'organismo di ispezione incaricato. L'ultimo passo è stato compiuto la scorsa settimana con la notifica alle ditte e ai privati proprietari di immobili dell'avviso di avvio del procedimento di conferenza dei servizi e di avvio dell'espropriazione. I destinatari della nota del commissario hanno adesso 30 giorni di tempo per avanzare eventuali osservazioni. Alla luce di queste scadenze c'è da ipotizzare che all'inizio del mese di dicembre possa essere convocata la conferenza dei servizi con all'ordine del giorno l'approvazione del progetto definitivo. Ciò significa in termini spicci che sembra proprio imminente l'avvio del cantiere per la costruzione del nuovo ospedale a prescindere dal reperimento dei fondi necessari a completare i 200 milioni di finanziamento pubblico disponibile per decreto già dal 13 dicembre dello scorso anno.